Perché chi come me parte comunque come un esule, lasciando i suoi affetti, le sue cose. Penso che le cose non possono cambiare. Certo mi ripresento a voi dopo questo lungo periodo, con una nuova carta d'identità. E' per questo che vi leggo due versi di Sandro Penna, che è stato il più libido dei nostri poeti del Novecento, che dice Felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. Coloro che mi conoscevano sapevano chi sei e chi ero e sanno anche adesso chi sono. Non mi conoscono coloro che da 40 anni non avevano nemmeno mai visto la mia faccia, si intende. Però io posso dirvi che da qui non sono mai partito. Quali sono le emozioni legate a questo bel ritorno a casa? Certamente sono emozionato, certamente è un piacere, perché quando una comunità, non che mi abbia ignorato, ma che mi ha lasciato andare senza mai mettere una barriera che frenasse questo tuo cammino, e poi all'improvviso scopri un interesse particolarissimo, che raramente noti nelle altre cose della vita, tutto quanto, penso che susciti qualcosa che non è ancora possibile descrivere, perché me ne sono accorto dagli sguardi benevoli delle persone che ho incontrato dopo 40-50 anni, pur avendo, essendo anche loro invecchiate, come sono invecchiato io, i connotati rimangono sempre quelli, quelli che tu riconosci, lo sguardo, la forma di una... e allora ho capito però che il sorriso, lo sguardo, era benevolo, forse non sarebbe accaduto tanti anni fa. E mai lo sguardo avesse colto la tua immagine, nella mia cecità, comunque avrei preferito te. A guidarmi sarebbe stato il cuore, sacro testimone capace a colorarmi il sogno, che m'attirava con il suono della voce, con la forza delle mani che hanno stretto il viso mio, annullando questa finta cecità. Qual è il tuo sentimento nei confronti del tuo luogo d'origine, nei confronti di Villa Sor? Ma io penso che non sia mai andato via da Villa Sor, perché le radici sono inestirpabili e il territorio che ho occupato l'ho portato con me, quasi che lo avessi trasportato. Quindi io non sono mai andato via da qui, perché mi hanno legato molte cose. E mi ha legato soprattutto la mia infanzia, che io non posso dimenticarla, perché è l'infanzia che mi ha dato questo carattere forte per arrivare anche dove sono arrivato, fuori dalla mia terra. Io so che il periodo della mia fanciulezza, vissuto negli anni 50, in un paese povero, comandato da forze estranee come Villa Sor, non mi dava quegli spazi che io cercavo. Non me li dava, anche perché io ho vissuto in un contesto politico molto importante, subito il dopoguerra, quando essere figlio dei comunisti voleva dire veramente essere marginati. Incomio per la sua opera di poeta, scrittore, per i risultati ottenuti in campo letterario e per il suo lustro portato al suo paese nativo. Quindi ti consegno, viaggio, questo pergameno. Uomini privi di morale, ancora trascinati da un credo sindacale che non ci aiuta più. Categorie animali che non ho mai amato e che mi fanno gridare viva gli uomini che vivono nel peccato, ignari di condanne e false religioni. Io sono sicuro che dico la verità e siccome la verità, come tutte le parole, come in politica, è quella che trionfa sempre, se io dico la verità, prima o poi qualcuno si accorgerà che io ho detto la verità.